una figlia una figlia certo certo chi l'avrebbe mai detto eh io no di sicuro chi l'avrebbe mai detto eh come si chiama in che senso come si chiama come la chiamiamo col suo nome ah certo e facciamo un gioco contiamo fino a tre e poi la chiamiamo e vediamo da che parte si gira ma perché o così mi sembra una cosa divertente uno due tre galadriel ma che cazzo dici non dire me lo lascio poi le ripete ma che cazzo di nome è galadriel ma come che cazzo di nome era l'elpa del signore degli anelli galadriel si amore la sposa di selevor la regina di eletior nel noem io te lo dico questa scuola la pigliano per il culo ancora si ma te l'hai convinto scusa ma che ci ripensi adesso ho detto che era un nome bello particolare internazionale amore non fate pinta che non ti ricordi ma che cazzo di